Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio pubblicato dal quotidiano La Repubblica, che è la supermedia Utrend. Vediamo che Fratelli d'Italia perde lo 0,2 ed è al 28,7, il PD perde lo 0,1 ed è al 19,6, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,6 ed è al 16,1, la Lega guadagna lo 0,5 al 9,8, Forza Italia al 7,2, Azione al 3,6 perde lo 0,3, Verdi sinistra al 3,5 guadagnano lo 0,1, Italia Viva al 2,7 guadagna lo 0,1, più Europa 2,3 perde lo 0,1, Italia Exit 1,8 perde lo 0,2, Unione Popolare all'1,3 perde lo 0,1, Noi moderati più 0,3 e sono all'1,1 e così il centro-destra è al 46,7, cresce dello 0,5, il centro-sinistra al 25,4 perde lo 0,2. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.